E' possibile, è verosimile che dentro di lei, senza nessuna volontà da parte sua ovviamente, sono entrati in conflitto due aspetti, due doveri diciamo, il dovere di mamma quindi di accompagnare, di curarsi della bambina e accompagnare la scuola e il dovere del lavoro. Il dovere del lavoro che evidentemente era troppo pressante ha prevalso per cui ha fatto dimenticare in qualche modo come fosse stata una gomma da cancellare che ha cancellato l'altro aspetto. Un blackout, un cortocircuito del cervello, una sindrome chiamata in psichiatria amnesia dissociative che potrebbe spiegare l'ultima tragedia che si è consumata nella provincia di Arezzo a Castelfranco. Una bambina di 18 mesi, Tamara, è stata dimenticata in auto dalla mamma, è morta così per arresto cardiaco dopo essere rimasta ore sotto il sole coccente. La mente a un certo punto, proprio per il conflitto, che si dissocia, si dissocia per cosa? Per tollerare quello stress che è diventato insuperabile, insopportabile e a questo punto purtroppo una parte viene dimenticata. Sono casi fortunatamente non frequentissimi ma ne sono successi anche perché sono casi così gravi che hanno chiaramente un grande rilievo. quando succede vanno sulle prime pagine, se ne parla e chiaramente sono un dramma terribile per la vittima ma per le vittime perché è vittima la bambina ovviamente ma è vittima la mamma perché io mi posso solo immaginare la sofferenza psicologica di questa donna. Sarà vittima il suo marito e il suo compagno. La madre, segretaria del comune di Castelfranco e di Terra Nuova, come ogni mattina pare avesse compiuto il quotidiano rituale, mettere la figlia in auto per portarla all'asilo prima di recarsi al lavoro. Ma per motivi spiegabili ha saltato la fermata del nido dimenticandosi così in auto la figlia, convinta di averla portata all'asilo. Quando noi mettiamo in campo un comportamento automatico, se per un motivo anche molto banale, questo comportamento salta, rischiamo di potercene non accorgere e quindi diamo per scontato che l'abbiamo fatto. Ora, chi giudica dice ma com'è possibile una cosa così grave? Ma le cose sono, diciamo, sono gravi a posteriori, ma prima sono comportamenti normali che io faccio tutte le mattine. Probabilmente c'è stata una piccola diversità per cui la mamma, per questa piccola diversità, non si è reso conto di non aver fatto la solita cosa. Un forte stress potrebbe essere la causa dell'amnesia dissociativa. Cioè la salute mentale è un qualcosa di così veramente delicato e complesso che ci riguarda assolutamente tutti. Quando cominciamo a vedere una persona vicina a noi, soprattutto una persona cara perché ha dei segni di difficoltà, perlomeno dovremmo cercare di incoraggiarla a parlarne, se non a chiedere un aiuto. Questo ancora oggi è molto difficile.